Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli si fanno sempre più intense. Un elemento cruciale in questa complessa vicenda è il DNA trovato sulla scena, che dovrà corrispondere a uno dei principali sospettati, tra cui spiccano i nomi di Luis e Loris. Tuttavia, c'è il rischio che il DNA non sia significativo se presente in quantità troppo esigue o se contaminato. Un altro elemento chiave è il fermacapelli rinvenuto vicino alla porta tagliafuoco sulla scena del crimine. Questo accessorio, che non apparteneva né a Pierina né al presunto aggressore, suggerisce la possibile presenza di una terza persona, sollevando l'ipotesi di un intervento successivo all'omicidio o di una complicità non ancora svelata. I sospetti si sono concentrati su Emanuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Luis da Silva, e su Valeria Bartolucci, moglie del metalmeccanico senegalese attualmente in carcere. Una cosa però è certa al momento, la maggior parte delle ferite di Pierina sono state esaminate, fanno dedurre che prima di morire la donna abbia lottato, suggerendo che l'aggressore abbia incontrato una resistenza inaspettata. E voi cosa ne pensate, qual è la vostra opinione sulla vicenda di Pierina Paganelli? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore